Allora, eccoci arrivati al momento dedicato all'economia, ci colleghiamo subito col magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Bentrovato rettore, eccoci qua, buonasera. Eccoci qua, vengo da un pomeriggio piacevole perché come lei sa sono un ex giocatore e appassionato di tennis, si è conclusa poco fa la partita della Giorgi, una tennista italiana di grande talento che è arrivata a 30 anni, poteva fare molto di più, però oggi ha vinto e ai ottavi di finale per la prima volta a Roland Garros, un bel successo, quindi sono contento. Quindi è contento, partiamo bene, meno male. Normalmente cerco sempre di essere sorridente. Assolutamente, lei ha la plomb inglese quindi, mai fuori dai ranghi. Sono sempre di Roma, se non mi ci portano sicuramente sono. Allora della Roma lo vogliamo dire perché io e lei siamo due romanisti quindi è andata bene. Sì, diciamo di sì, è vero, però simpatizzo anche per la Lazio. Anche? Ah, quindi Roma e Lazio. Vedete quante rivelazioni? Quante? No, simpatizzo per le squadre che giocano bene, mi piace il calcio come tutto lo sport. Sì, è vero, sono della Roma ma non accanito tifoso. No, no, certo. Sono contento del risultato che ha fatto, indubbiamente. Una bella vittoria. Eh no, ho 12 anni che non vincevamo in Europa, quindi ben venga, però io faccio il tifo per tutte le squadre italiane distintamente. Che giocano bene, certo. Qui si è aperta una ola da parte dei tecnici, stanno sbandierando vive il Rettore. Bene. Allora Rettore, entriamo subito nel merito. Iter della riforma, io vorrei da lei un giudizio sul DDL concorrenza che lunedì approderà in Senato. Allora, come sta andando Rettore? Che ci dice a questo proposito? Beh, giovedì c'è stata una svolta, perché dopo tanti confronti anche accesi sui temi che riguardano la concorrenza, vitali per noi in questo momento ai fini dell'ottenimento di quelle risorse del PNRR che sono necessarie per investire e quindi cercare di recuperare un po' del terreno che si è perso negli ultimi anni. La svolta c'è stata, finalmente si è trovato un accordo, soprattutto per quanto riguarda il disegno di legge concorrenza che era un po' bloccato su tutto il discorso delle concessioni balneari, si è trovato un accordo temporaneo, c'è stato un rinvio in sostanza, perché nei decreti attuativi poi si stabilirà quando dovrà essere risarcimento nel caso in cui il vecchio concessionario perda per effetto della partecipazione alla gara pubblica la concessione, quindi il risarcimento, l'indennizzo che riguarda gli investimenti, tutte le opere di valorizzazione che nel corso del tempo il concessionario può aver fatto. Poi ci sono tanti altri temi nel dire alle concorrenze, ma questo era lo snodo fondamentale. E al tempo stesso anche sulla riforma fiscale tutte le controversie a proposito del catastro, della tassazione, dei redditi di capitale sembrano un po' sopite e dovrebbe andare avanti. Da notare poi che è assolutamente vitale quella della concorrenza, perché la riforma fiscale pur essendo fondamentale non è tra quelle prioritarie in senso assoluto che riguardano il PNRR. Quindi un buon segnale, ci si è arrivati forse in affanno, anche con la spinta che Draghi ha dovuto dare, perché se si fosse andati al voto di fiducia a questo punto sembra scongiurato, poi si sarebbero persi tutti gli emendamenti che la Commissione Industria del Senato aveva posto in essere e che riguardano tanti altri temi, al di là del discorso dei balneari. Quindi ben venga lunedì dovrebbe esserci questo varo e al tempo stesso la riforma fiscale dovrebbe poi tra il 13 e il 20 giugno essere oggetto di discussione e finalmente forse prendere vita. Vedremo comunque un passo in avanti. Ecco, la vita economica del Paese secondo lei sta facendo un passo in avanti? L'ha fatto grazie a questo compromesso a cui sono giunti, perché c'è la grande apprezzione per il PNRR, noi adesso avremo una tranche di una ventina di miliardi, ammesso che entro giugno si raggiungano i famosi 45 obiettivi, 18 li abbiamo raggiunti di questo semestre, 12 dovremmo raggiungerli la prossima settimana e fa 30, ne mancano 15, manca soltanto un mese, però attenzione, il PNRR ha perso un po' dell'attenzione generale, soppiantata purtroppo dalla guerra e da tutte le problematiche delle risorse energetiche, dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi, del grano, del mais, del petrolio, del gas, quindi sul PNRR io credo che l'attenzione un po' sia diminuita, però credo anche che si sia lavorato all'interno dei ministeri, voglio sperarlo, Draghi è stato rassicurante, siccome ha sempre dimostrato equilibrio al di là del fatto che poi alcune cose possano, nessuno è perfetto, quindi possano anche non essere piaciute ad alcune parti politiche, però col suo equilibrio ha rassicurato il PNRR dicendo che dovremmo a questo punto, dopo la svolta di giovedì, avere un ITER che consentirà il raggiungimento degli altri 15 obiettivi e quindi il regolare svolgimento di tutto ciò che riguarda questa importante immissione dei mezzi finanziari nel sistema Italia, che è fondamentale per i nostri investimenti. Bene, sentiamo Rettore come si è espressa la Casellati sul PNRR, sentiamo cosa ha detto. Ok, come non detto Rettore andiamo avanti. Va bene, c'è stato qualche problema di audio, ma sostanzialmente adesso… Sì, adesso non fa niente, succedono problemi tecnici, è il bello della diretta, ma dicevo non fa niente, abbiamo sentito da Casellati nel senso che sul PNRR io credo che si possa essere relativamente tranquilli, al 30 giugno avremo raggiunto i 45 obiettivi, ci prenderemo quei soldini a cui tanto teniamo, l'importante è spenderli bene, l'importante è programmare gli investimenti nel modo opportuno e anche guardare all'Europa, guardare l'Europa che ha tirato fuori questa idea dei 300 miliardi per l'emergenza energetica, è un po' sorpresa però ha detto attenzione, i 7 paesi che già hanno avuto nel PNRR non prendono un euro. comportamento un po' sorprendente, cara Roberta, perché l'Europa delle volte ci sorprende in negativo, ma se è vero che ci deve essere coesione e ci vogliamo tutti bene, che l'Europa deve diventare un tutto uno, che questi 27 paesi e l'Eurozona, 19 paesi, sono destinati forse nei prossimi decenni a costituire un blocco veramente competitivo nell'ambito internazionale, molto più di quanto oggi rappresenti l'Europa e poi che facciamo? Ogni volta che c'è una difficoltà l'Europa comincia a distinguere, è tardiva nell'intervenire, secondo me doveva essere intervenuta già almeno da un paio di mesi, perché le difficoltà internazionali a livello europeo sono fortissime e quindi questi 300 miliardi servono, ma servono soprattutto a paesi come l'Italia che sono molto esposti e si è appreso altri soldi l'Italia, anche qui sento delle cose che secondo me sono prive di senso, si possono utilizzare le risorse del PNRR per far fronte all'emergenza energetica e all'aumento dell'inflazione, ma stiamo scherzando, le risorse del PNRR servono agli investimenti, se c'è da fronteggiare l'emergenza l'Europa deve mettere in tasca e aiutare i paesi, anche perché i paesi non vogliono far più come l'Italia a scostamento di bilancio, che vuol dire, l'abbiamo detto tante volte, andare oltre ciò che si era previsto in termini di debito, l'Italia a contrario è giustamente, io dico sempre, purtroppo ci arriveremo e se l'Europa non interviene, ma bene, purtroppo arriveremo allo scostamento di bilancio, non vedo altre soluzioni, tutte le risorse con l'ultimo decreto aiuti le abbiamo esaurite, le vecchie risorse poi ci siamo inventati la tassazione degli extra profitti, giusta sotto tanti aspetti, ma hanno anche ragione di lamentarsi le grandi imprese petrolifere, a meno che non abbiamo fatto speculazioni non giuste, perché tutto questo sarebbe da accertare ovviamente, però poi il tesoretto che veniva dall'anno precedente è esaurito, quindi se serviranno altri soldi, cara Roberta, e purtroppo ne serviranno, noi a torto collo, come dico sempre, dovremmo fare anche lo scostamento di bilancio, perché l'Europa non interviene, noi non possiamo prendere i mezzi del PNRR per far fronte all'emergenza energetica e ai costi maggiori dovuti all'inflazione, alla guerra e a tutto quello che sta succedendo, perché li sottraiamo agli investimenti e se non investiamo non andiamo a nessuna parte. Senta Rettore, per quanto riguarda Ritz, sta attarreso noti i dati di fiducia dei consumatori e delle imprese, che cosa ci dicono questi dati? Allora, finalmente possiamo dare una buona notizia, nel senso che gli indici di fiducia di giovedì ci dicono che consumatori e imprese nel mese di maggio hanno acquisito un notevole grado di fiducia per il futuro, sono cresciuti di circa 2,5 punti percentuali, l'indice dei consumatori da 100 a 102,9 contro un'attesa di 100,5, quindi superiore all'attesa il comportamento di questi indici. La riflessione qual è? Sono molto contento, però pur sforzandomi e essendo felice che i consumatori di imprese italiane mostrino questa fiducia per il futuro, in questo momento io ancora non vedo quali possano essere motivi fondati per avere fiducia verso il futuro, bisogna averla, io sono ottimista di natura, però questa impennata della fiducia non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava nessuno, ben venga, prendiamo la notizia per buona così com'è e vedremo in futuro poi cosa succederà. Quindi una notizia buona, inaspettata, sorprendente, gli indici di fiducia, comunque sono importanti indicatori segnaletici di dove si sta andando, sono veramente positivi per il mese di maggio. Certo tutto il resto del quadro non è così. Senta Rettore, per quanto riguarda invece il costo del denaro, l'aumento che abbiamo visto in America, si ipotizza un aumento dei tassi di stresse anche in Europa, un aumento del costo del denaro. Ci sarà, secondo lei, se sì, in che misura? Beh, ci vorrebbe una sfera di cristallo, io spesso mi avventuro in previsioni. Si prende Rettore, ogni volta si avventura però. Il mio cognome mi aiuta. Fortuna. Ma non lo faccio solo con lei, perché nella vita bisogna anche rischiare, se uno studia e cerca di interpretare le situazioni deve anche dire quello che pensa. Certo. Non ci voleva Einstein, per dirlo, nemmeno fa più fortuna. Si capiva perfettamente. Però BCE che continua a dire che non li alzerà nel 2022, non sarà così. E così non è stato, perché la Lagarde poi si è un po' rimangiata questa cosa. Anche lei purtroppo con grande dispiacere. Però ha dovuto prendere atto che non si può pensare in presenza di un rialzo americano dello 0,50 già avvenuto a marzo e di un possibile rialzo dei tassi negli Stati Uniti ancora, a mio giudizio, dello 0,50 il 15 giugno, quando nuovamente la Banca Centrale si riunirà, non si può pensare che l'Europa rimanga ferma. Purtroppo l'Europa, purtroppo o per fortuna, questo ogni interprete lo valuta come vuole, oppure una via di mezzo come spesso stat virtus, come spesso succede nelle cose della vita, l'Europa come il resto del mondo dipende molto da come vanno gli Stati Uniti, da quello che fanno gli Stati Uniti. E quindi io dicevo non ci potremmo sottrare, poi è venuta la guerra, l'inflazione è elevatissima e questa impossibilità a sottrarsi all'aumento del costo del denaro derivante dall'aumento dei tassi, purtroppo bisognerà farlo. E quindi io credo che il 9 giugno, data della prossima riunione della BCE, non ci sarà già un aumento dei tassi, perché l'aumento è preannunciato, ormai ufficialmente dalla Guard, per luglio e poi per settembre. Di quanto potrà essere? Sarà un aumento pari a quello americano? Andremo più lenti a mio giudizio. Io credo che tra luglio e settembre BCE rialzerà i tassi nell'ordine complessivo di uno 0,75 e poi a seconda dei casi sceglierà se fare 0,25 per rompere il ghiaccio in modo non brusco oppure 0,50 e poi 0,25. Non credo che farà due volte lo 0,50 e quasi raggiungerà gli Stati Uniti che nel frattempo potrebbero dopo giugno rialzare ulteriormente, perché non finisce qua il rialzo dei tassi americani. Certo, aumenta il costo del denaro per famiglie e imprese, questo non è un elemento positivo ovviamente, è anche un elemento che i mercati non gradiscono perché crea delle difficoltà il fatto che aumenti il costo del debito, ma è inevitabile per cercare di riportare l'inflazione in binari che siano sostenibili. Certo, lei infatti ha affermato, rettore, l'Europa rispetto agli Stati Uniti è un gap notevole, una valuta comunque ricordiamo la espressione dell'andamento del sistema economico di riferimento. Questo l'ho detto a proposito del cambio euro-dollaro, quando la scorsa settimana, non più di 7, 8, 10 giorni fa, il cambio euro-dollaro era precipitato nel senso che l'euro si era apprezzato molto nei confronti del dollaro, eravamo arrivati a un tasso di cambio dell'1,03, quindi ci avvicinavamo alla parità, in realtà negli ultimissimi giorni il dollaro si è un po' riapprezzato, per cui il cambio euro-dollaro adesso è 1,07, questo che cosa vuol dire? Che l'Europa regge un po' meglio, i dati dell'inflazione in Europa sono leggermente diminuiti negli ultimi 20-30 giorni, in Italia abbiamo un'inflazione al 6% secondo il dato Istat, un'inflazione prevista nel 2022 secondo l'Europa per il 5,9 è inferiore alla media europea che è del 6,1, l'inflazione è stabile però, non ci illudiamo, l'inflazione non scomparirà presto, non arriveremo all'inflazione al 2% nel 2023 come dico da tempo e adesso comincio a sentire che si dice nel 2024 forse ci riavvicineremo al 2% che è il limite di Toto Sano, ma non era pensabile che nel 2023 con la situazione che c'è a maggio e che c'era aprile e marzo 2022, non era pensabile che si potesse tornare al 2%, quindi delle volte sembrano cose di una tale banalità, non necessariamente scoperte dall'America che ci si meraviglia quando ci si arrivi un po' in ritardo, la situazione è sotto gli occhi di tutti, noi andiamo a comprare le cose che costano molto di più, alcuni beni e servizi hanno avuto un aumento superiore a questo dato medio del 6%, altri magari equivalenti, altri forse un po' meno, ma l'inflazione percepita dai cittadini è molto più alta del 6%, basta guardare la benzina che nonostante il prezzo sia stato un po' bloccato con l'abbattimento delle accise che durerà fino all'8 luglio, ma al self service e al servito il prezzo della benzina comunque è un po' aumentato. E' come no, quasi 1.900, quindi si vede ancora a 1.80, però c'è una tendenza a un aumento che se ci fossero state ancora le accise ci avrebbe portato già sopra i 2 Euro, che sarebbe insomma una cosa antipatica, così come è successo quando si è cominciato a intervenire. Quindi è una situazione ancora complessa, con un'inflazione molto elevata, con un risultato del primo trimestre del PIL italiano meno 0,2, ricordiamolo, speriamo che nel secondo trimestre il risultato non sia negativo, perché altrimenti entriamo in recessione tecnica, che non è vera e propria recessione, ma insomma non è nemmeno una cosa simpatica. Però anche gli Stati Uniti, il primo trimestre, dato definitivo di ieri, meno 1,5. Cioè purtroppo è tutto il mondo che è in grande difficoltà, anzi l'Italia in certi casi si difende anche meglio degli altri, però la crisi c'è, i problemi per i cittadini e le imprese ci sono, non bisogna esasperare, il governo e lo Stato devono intervenire in ogni modo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, affinché la situazione nei limiti in cui è possibile rimanga sotto controllo. Certo, lei il rettore ha detto che l'Europa da una parte ci bacchetta, però poi non fa nulla per migliorare effettivamente la situazione. Beh noi, sì sì è vero, l'ho detto in qualche intervista, l'Europa sembra che ci prenda gusto a bacchettare l'Italia, abbiamo visto anche Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale dire tutta una serie di cose a proposito dell'Italia, non troppo lusinghiere, la Commissione Europea ci ha posizionato tra i tre paesi che hanno squilibri eccessivi insieme a Grecia e Cipro e poi sta sempre lì a indicare l'elevatezza del nostro debito, purtroppo noi questi problemi ce li abbiamo, il nostro debito pubblico ha toccato l'ultimo dato il record storico 2755,4 miliardi, infatti mi domando, continuo a domandarmi, come si possa oggi, e poi vedremo se sarà così e me lo auguro, dire che il rapporto deficit PIL e debito pubblico PIL, ambe due miglioreranno, quando sia numeratore che denominatore messi a confronto non possono notare risultati migliori, visto che il PIL diminuisce, abbiamo gli ultimi dati del PIL, in ordine di tempo l'ultimo riferimento è quello dell'agenzia di rating Fitch, che ha detto che il nostro PIL aumenterà, è di ieri sera la notizia a mercati chiusi, aumenterà del 2,7 nel 2022, è un dato in leggera crescita rispetto al 2,5, al 2,4 del Fondo Comunitario Internazionale della Commissione Europea e anche dell'agenzia di rating Moody's, quindi Fitch ci dice, prevedo un po' meglio, più 2,7 e magari io firmerei subito se il PIL italiano crescesse a fine anno del 2,7, speriamo che la risposta di Fitch sia reale, però poi Fitch dice che il debito pubblico PIL sarà sempre intorno al 150, non vede miglioramenti, così come io le ho detto poco fa, quindi l'Italia è sempre un bersaglio, si divertono, ogni volta che c'è da attaccare l'Italia non si fanno problemi in Europa e questo non è molto simpatico, perché è vero, in alcune classifiche noi siamo la cenerentola dell'Europa, ma perché infilare sempre il dito nella piaga? Diciamo anche le cose positive che succedono in Italia, ad esempio giovedì il fatturato industriale ha avuto un risultato positivo rispetto al mese precedente, anche su base annuale, quindi questo ci lascia sperare che poi nel secondo trimestre il PIL possa andare in modo accettabile, la crescita del PIL, ma questo non lo dice nessuno, oppure vediamo adesso lunedì i dati della fiducia in Europa, alle 11 lunedì mattina li avremo e vedremo come l'Italia verrà vista in Europa e come i singoli paesi europei esprimano, l'Europa nel suo complesso esprima la fiducia nel futuro, noi l'abbiamo espressa con grande positività, ho detto senza motivazioni di grande fondamento, almeno a me sfuggono, però ben venga e speriamo che sia una bella premonizione. Senta, diamo un'occhiata al mondo, la borsa e i mercati finanziari, come sta andando Rettore? Nonostante la turbolenza e la volatilità che caratterizzano borsa e mercati finanziari, è stata una settimana positiva per il nostro Fuzzimib che ha ridotto le perdite da inizio anno, non è più tra i peggiori d'Europa come fino a un paio di settimane fa, anche i mercati finanziari americani negli ultimi giorni della settimana hanno avuto una certa ripresa, quindi una settimana che ha portato a notizie buone, lo spread che era andato sopra i 200 punti lunedì e martedì, poi è ridisceso e in chiusura venerdì ha segnato 193,5 punti, quindi uno spread volatile, uno spread con i 200 punti sempre in agguado, l'importante è che non spicchi il volo, perché in questo momento grandissimi miglioramenti, lo spread non è che può tornare a 100, ma l'importante è che non spicchi il volo e che non cresca troppo, dobbiamo accontentarci. Un'ultima analisi, Rettore, queste famose 200 Euro di bonus che sono state attivate dal nostro governo per dare una mano a tutta la popolazione italiana che sta in grave difficoltà, sono sufficienti? Andava un po' stretto la mano di più? Allora, è un primissimo passo di concessione di denaro, non agevolazioni, sconti, quindi un una tantum di 200 Euro, la somma certo non è grandiosa, però riguarda 31,5 milioni di persone, lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, è la prima volta che i pensionati ricevono qualcosa in questi termini e poi anche con grandi polemiche, possessori del reddito di cittadinanza, colf, quindi una platea molto ampia, non è sufficiente ovviamente, tampona l'emergenza, meglio di niente direi, il governo è intervenuto costantemente, ma sempre così così a fatica sempre rincorrendo la situazione, come ho detto spesso sarebbe opportuno invece accompagnare e in qualche modo dare mezzi in contemporanea, non aspettare sempre di ristorare, di reintegrare, perché famiglie e imprese dovrebbero avere anche la possibilità di organizzare il futuro. Comunque a luglio molti lo avranno, per alcune categorie tipo gli autonomi ancora non è chiaro, nella maggior parte dei casi lo pagherà l'Inps, in qualche caso bisognerà fare domanda per i lavoratori dipendenti, andrà sulla bussa paga, a luglio dipendenti e pensionati dovrebbero avere, l'uso è condizionale perché finché le cose non sono fatte bisogna sempre andarci i piedi di piombo. Bene, ringraziamo il magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna, grazie per essere stato con noi, appuntamento a sabato prossimo, grazie rettore. Grazie a lei come sempre. Alla prossima, allora diamo la linea al nostro telegiornale, ci vediamo fra poco.